Oltre un milione di presenze che hanno determinato un'impennata del 10%. Il turismo vola in provincia di Arezzo negli ultimi nove mesi in barba alla crisi. I dati sono stati diffusi dall'assessore provinciale al turismo Rita Mezzetti Panozzi. Oltre 1.200 le strutture ricettive è monitorata dagli uffici competenti con interviste mensili. I primi mesi dell'anno avevano fatto tremare i polsi, poi in estate la volata definitiva. In questi ultimi quattro anni il nostro territorio non ha mai registrato, io ovviamente parlo di un dato provinciale complessivo, non ha mai segnato il segno meno. Quindi abbiamo sempre avuto un dato positivo, anche se un più 1, un più 2 e così, quindi questo più 10 è un dato veramente grande. Relativamente agli arrivi è un segno positivo molto alto, un 6,6. L'indice di permanenza, questo è molto importante perché andiamo in controtendenza con tutto il resto delle altre province della regione toscana. Perché appunto mentre l'indice di permanenza, si sa ovviamente il frutto della crisi, è diminuito ovunque, noi siamo saliti a un 3,21. Quindi vuol dire che più di tre notti in generale i turisti rimangono nel nostro territorio. Quindi completamente in controtendenza rispetto al resto della Toscana. Sempre rispetto al resto della Toscana abbiamo un altro indice importante. Ovunque è stato registrato il calo degli italiani e l'aumento dei turisti stranieri. In provincia di Arezzo l'emorragia si è fermata, abbiamo una leggerissima flessione, però in generale gli italiani sono venuti nel nostro territorio e poi ovviamente l'aumento degli stranieri come nel resto della Toscana. Nel territorio provinciale la situazione delle varie vallate è diversificata. Casentino e Valtiberina hanno una leggera flessione negativa, mentre sono andate meglio Valdarno e Valdichiana, quest'ultima forte del solito risultato positivo di Cortona. Ma adesso arriva un interrogativo. Con l'abrogazione delle province ormai prossima, chi si occuperà della programmazione turistica? Da gennaio siamo abbastanza preoccupati perché comunque la provincia in questo ruolo di coordinamento e di politica appunto più ampie aveva dato un contributo penso notevole e da gennaio... Il contributo verrà meno. Verrà meno ma auguriamoci che comunque Olente che sarà, che continui, cioè si capisca che comunque il turismo deve essere visto ad area più ampia.